Questa sorta di pace armata che hanno firmato Washington e Pechino sembra aver restituito un po' d'aria all'economia mondiale, anche se a Davos. Gli esperti ritengono che la crescita di quest'anno sarà di poco superiore al 3%, comunque positiva rispetto a un anno fa, quando le tensioni cino-americane tenevano sul filo l'economia mondiale. La direttrice dell'OFMI, Cristalina Georgieva, ha cercato di rassicurare i presenti, ma i numeri sono numeri, e la ripresa è legata a troppe incognite, senza dimenticare che una delle zone commerciali più importanti del mondo, l'Unione Europea, con il suo ricco mercato interno, è ancora legata alle incertezze che dipendono dalla Brexit. Ad esse si aggiungono le tensioni con l'Iran, che potrebbero portare ad un aumento dei prezzi del petrolio e ad un conseguente ulteriore rallentamento dell'economia mondiale. E sono ancora tante le incognite che potrebbero indirizzare in una direzione o nell'altra il corso dell'economia. È vero, ad esempio, che Fraccina e Stati Uniti è scoppiata la pace, ma è anche vero che la giustizia canadese sta decidendo se stradare o meno verso gli Stati Uniti Meng Wanzhou, da figliare il fondatore del colosso delle telecomunicazioni Huawei, accusata da Washington di aver aggirato le sanzioni contro l'Iran. Un'altra analista dell'OFMI ritiene che la ricchezza del mondo possa ridursi di uno 0,8% entro la fine dell'anno, rispetto allo 0,5% previsto. In tutto questo ci sono paesi che reagiscono peggio degli altri. L'Italia, ad esempio, è nella lista dei cattivi allievi. Crescita modesta, debito alto e produttività bassa sono le accuse. Il fondo monetario richiede dunque riforme strutturali urgenti.